Sviluppo futuro e sostenibilità, queste le parole chiave del nuovo collegamento ferroviario con il porto di Marina di Carrara. È stato inaugurato il nuovo fascio di binari interni al porto presso la banchina Fiorillo e a tagliare il nastro il presidente della regione toscana Eugenio Gianni insieme al presidente dell'autorità portuale Mare Ligure e Orientale Mario Sommariva e al sindaco di Carrara Francesco De Pasquale. Un nuovo collegamento importante per tutta la filiera commerciale. È indubbiamente il salto di qualità perché lo scambio commerciale da un punto di vista merci passa sempre più sulla valorizzazione delle linee ferroviarie. Ripristinare con un intervento a cui la regione aveva partecipato nell'accordo di programma iniziale con investimenti fatti da Italfair, dall'autorità portuale per 4 milioni e mezzo il collegamento che collega alla rete ferroviaria e il porto è un salto di qualità. Un porto, quello di Carrara, che vuole diventare così sempre più centro e snodo delle attività commerciali di tutto il territorio, ma su scala nazionale. Un collegamento ferroviario che vuole ridare slancio allo scalo di Carrara. Oggi è una giornata fondamentale perché la ripresa di piena efficienza della ferrovia per un porto è la garanzia di una prospettiva futura perché il traffico marittimo in realtà non può vivere e prosperare senza degli efficienti collegamenti ferroviari e quindi oggi è una giornata estremamente importante per noi.